La terra arriva a un punto di rottura, la natura torna ad occupare i suoi spazi. Abbiamo raggiunto un punto di non ritorno e la natura, satura dell'intervento dell'uomo, si riappropria gradualmente della sua dimensione. Il nuovo cittadino si trova immerso in una giungola urbana, un ambiente irrisenato a cui impara ad adattarsi. Il progetto è divenuto drammaticamente attuale.